Perché proprio a me? Il concetto fondamentale è che basta avere un rapporto con una persona portatrice del virus per contrarre il papillomavirus. Il messaggio pratico è uno solo, ogni donna che abbia avuto un rapporto sessuale deve fare la visita ginecologica, rivolgersi a un ginecologo di fiducia e fare periodicamente il pap test per escludere che non ci sia stata un'infezione da papillomavirus o da altri germi. Importante naturalmente, il messaggio ancora più radicale, proteggiamoci, preveniamo i danni di questa infezione con la vaccinazione, ricordo gratuita per le donne delle ragazzine di 12 anni, con un prezzo sociale, quindi a un terzo del costo reale per le ragazze fino a 26 in molte regioni italiane, comunque il vaccino, in particolare il quadrivalente, questo è stato dimostrato per il quadrivalente, è efficace fino a 45 anni, probabilmente anche oltre. Quindi proteggiamoci, perché anche se noi temperamentalmente siamo donne fedelissime, potremmo incontrare e innamorarci di un uomo a noi fedele, ma che prima ha avuto rapporti con altre donne e si è infettato col papillomavirus.